Allora, adesso fate un gioco, se non state guardando la live dal telefono, ma se la state guardando tipo dall'iPad, dal computer o qualcosa, aprite TikTok in questo momento, no, fidatevi, aprite TikTok e andate sul mio profilo, Edoardo.Iannone, adesso io vi sfido, guardate i video sul mio profilo, è evidente, ma è proprio evidente a livello di numeri, che se c'è una mezza caduta in moto, o un qualcosa di rischioso, il video non va. No, ma loro non possono vedere che è bannato, no, no, vedono le views, guarda, TikTok normale con mia mamma dove vado in moto e basta, Family Friendly, 391.000, TikTok dove io e Luisa amigliò overcard, mezzo milione, un milione e mezzo, ieri ne carico uno, divertentissimo, super figo, 13.000 views, ne carico un altro con la moto dove uno fa un incidente, su Instagram ha fatto 2 milioni di views, 41.000 views, pubblico il video delle impennate, 28.000 views, pubblico il video del tergicristallo, che non è nulla di probabilmente pericoloso, 122.000, va forte, la minimoto 37.000, la polizia 50.000, qualsiasi cosa così non va, ok. Quindi la mia domanda è, TikTok, come cazzo è possibile che questa cosa sia in qualche modo bannata o limitata, ok? E che i miei video dove una tizia stava alzando la, 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 la zip della giacca di un tizio è stato bannato per nudità e atti sessuali. E se uno fa il video con fuori il, 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 il pezzo di intestino così rosso, che se lo disinfetta a 22 milioni di like, oppure anche gli animali, tipo leone contro tigre che si mangiano, cioè, capito, io non le voglio dire quelle cose, però, una cosa del genere, tipo i cani che stanno morendo, ma perché? Che poi sono, no, non posso dirla questa cosa, però sono sempre in quella parte del mondo e mi fanno incazzare. Cioè TikTok, non è detto, guarda che c'è un sacco di gente anche in Italia, secondo me il rapporto con gli animali è proprio... No, 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 non hai capito, vabbè, non è vero. TikTok, il riassunto è che TikTok è una piattaforma di merda. Guarda quando eravamo piccolini, quando eravamo piccolini girava un video di alcuni italiani che bruciavano tipo un cane. No, io, sai che a me dispiace, cioè, non lo dico, però ti giuro, dispiace veramente, non li metto sullo stesso piano, però un animale, cioè, se picchi un animale così mi dà quasi più fastidio. Sì, o se vedo un ragazzo che si picca con un altro ragazzo, dico, vabbè. Perché proprio l'animale vi dà la cosa, gli dà l'idea di essere innocente. No, ma anche un uomo con un uomo, dici, noi siamo talmente stupidi come razzo umana da farci la guerra. Sì, un uomo con una donna è già diverso. Scherzo, no! No, in che senso? Non l'ho capito. No, infatti io pensavo... Ok. Scherzo, è una macchina, voglio andare in social, io vi dico che è il canale di tutte e due, ma potete girare i guadagni solo a me. Ma sto scherzando, ovviamente, ragazzi. No, è una tematica, ovviamente... Cioè, è che il cane è un animale, poverino, non lo fa con cattiveria, capito? Cioè, mentre l'uomo... Vedo che è picchiato da uno, dice, ma cazzi, è... Ma sì, è un umano. Ma sì, è un uomo.